Iorg, ragazzi, un cono grande che sapete che noi adesso verifichiamo tutti i coni, è un vero cono, ragazzi, niente scam, solo sostanza, dovrebbe fare un crackling veramente aggressivo. Eccolo qua, piazziamo a terra e andiamo in da rampa, ragazzi. Eccolo qui, e direi fuoco alle polveri. Questo è molto bello, ragazzi, se lo trovate in giro fateci un pensiero. Tra il resto sotto la pioggia funzionano comunque benissimo. Per adesso, sto zitto così magari non porto spiga. Bello, bello, bello. Occhio! Bello, bello! Bello!